Francesco, una partita condizionata secondo noi dagli episodi, perché il Verona aveva reagito bene, però poi anche il terzo gol per esempio, stavamo provando a pareggiarla, ma c'è andata male stasera? Sì, stasera è andata male, il risultato sicuramente, la prestazione abbiamo provato a fare, l'abbiamo trovato davanti di una squadra in forma, in salute, con grande autostima, alla quale è riuscita tutto, è stata fortunata nei tre episodi del gol, anche se il rigore probabilmente c'era. Sul primo c'è stato un rimpallo fortunoso e poi sai in Serie A, quando i giocatori di questa qualità riescono a portare palla, alzare la testa, hanno più licidità e quindi ci hanno punito in questa maniera. Sottolineare comunque la reazione della squadra, la voglia di comunque anche nel momento di difficoltà sul 2-0 di provare a riprendere il risultato e ovviamente anche il gol di Luca Tonio, le note direi più positive di questa serata, cosa dici tu? Assolutamente, l'atteggiamento con il quale la squadra ha affrontato la partita e ha reagito alle difficoltà è assolutamente qualcosa da cui ripartire, preparandoci ancora meglio per affrontare la trasferta di Genova. Arriva io un momento particolare, questa trasferta, il ministro aveva detto che abbiamo bisogno di punti, stasera non sono arrivati a Genova, dovremmo fare punti ed è un campo complicato. Sì, sappiamo che i punti da qui a maggio dobbiamo farli, quelli che abbiamo fatto non sono pochi, potevano essere qualcosina in più, ma sappiamo che noi per arrivare alla salvezza c'è arrivare alla salvezza anche a piccoli passi e quindi con queste prestazioni e magari un po' più di lucidità e anche perché non fortuna magari riusciremo a fare meglio, anzi dobbiamo riuscire a fare meglio. Passami una battuta, parlando della tua prestazione, è stata una serata anche tranquilla perché effettivamente il Torino penso che ti rimporta già dei gol, non ne abbia fatti. Sì, questo è un ramarico ancora maggiore perché vuol dire che tutto sommato la partita l'avevamo preparata anche così, però se in certi episodi gli avversari sono più fortunati, come magari è successo all'andata quando abbiamo vinto a Torino con un gol e probabilmente forse un solo tiro in porta, oggi è successo il contrario, testa alta e vogliamo reagire. Tra Palermo e oggi c'è mancata proprio un po' di fortuna, cioè a Palermo nel primo episodio loro pareggiano con Di Bala, oggi loro hanno questa situazione un po' particolare, Alfredson-Marquez trovano il gol, ci sta anche un po' girando male negli episodi? Sì, le ultime due partite ci sta girando molto male direi, al di là che hai affrontato due squadre in salute con gente di grande qualità, soprattutto nella fase offensiva. Hai detto bene, ci gira male, però dobbiamo farla girare bene noi con l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi e magari con un po' di lucidità in più. Quanto diventa importante Genova adesso? Tutte le partite sono importanti, perché se noi a Genova facciamo uno o tre punti non è che siamo salvi, dobbiamo poi rimetterci e lavorare ancora tre o quattro mesi per arrivare a maggio con i punti che ci servono per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie.